Questa amministrazione è confusa e improvvisata, il nostro è un giudizio negativo, continueremo a rimanere all'opposizione. Lo sostiene il Partito Democratico che nel pieno della sua riorganizzazione torna nel cuore dell'estate a prendere le distanze dalla giunta mersinese e dice che sarà il primo partito in consiglio comunale a proporre la mozione di sfiducia per mandare a casa il primo cittadino e i suoi seguaci. Annuncia inoltre di voler andare nella primavera del 2018 al voto anticipato e accusa i 5 Stelle di avere provocato lo sfascio della città. Un'amministrazione che si era presentata all'insegna del cambiamento e che avversava e contestava con un sistema di gestione della cosa pubblica delle passate amministrazioni questa amministrazione non solo ha ripristinato quel sistema di gestione di potere ma lo sta alimentando. Lo dico per ascanso di equivice, non siamo assolutamente interessati a nessun ingresso in giunta e vogliamo spegnere le polemiche e chi sta cercando di strumentalizzare queste voci politiche. Non siamo noi responsabili di questo disastro, ha detto il segretario Peppe Di Cristina. I 5 Stelle dovrebbero scusarsi con la città mentre il PD continua a cercare l'unità perché grazie anche alla luce della riforma elettorale appena votata dall'Assemblea regionale siciliana il partito di Renzi sostiene di avere a Gela tutte le carte in regola per poter ritornare a governare la città. Il PD da sei mesi è assolutamente centrale nell'attività politica della città. Lo abbiamo dimostrato prendendo in pieno e con responsabilità l'appello fatto al segretario nazionale nella raccolta delle firme, nella costituzione dei comitati, nell'organizzazione del partito, nella rifondazione dei giovani democratici. Lo dimostriamo insieme al gruppo facendo un'opposizione seria, intransigente e coerente a questa amministrazione. Ma nel frattempo ci sono delle problematiche da affrontare. Le emergenze importanti sono due. Uno intanto il porto, l'avete sentito, è la notizia del giorno. Resta l'ultima fase. L'ultima fase consiste nella firma del protocollo d'intesa tra il presidente della regione, il sindaco e l'Eni in cui si mettono materialmente i soldi all'ingegnere Foto, il capo della protezione dei civili. Da lì si avvieranno tutte le fasi che porteranno al dragaggio del porto di meno 4 metri e all'allungamento del braccio di sottoflutto di 120 metri. E risolverà il qui e ora del porto. Poi ci sarà il grande porto. Ed è un'altra cosa. Seconda questione. Noi abbiamo la necessità immediata. Siccome non ha piovuto, acqua non ce ne ne le dica. Com'è che risolviamo il problema? Noi abbiamo due opzioni. Una che abbiamo lanciato noi e che ha ripreso l'amministrazione è l'acqua online, cioè l'acqua del depuratore che viene utilizzata per irrigare i cambi. C'è già il progetto di massima, bisogna trovare i soldi, dopodiché intervenire per avere l'acqua del ragoleto per uso irrigua. Queste sono le due emergenze di cui ci dobbiamo occupare immediatamente.